La testa e i genitali. Infedeli, figli di puttana tutti. Chi ascolta e scrive è infedele. Bisognerebbe mettere la loro testa sul tagliere e via, colpire e avanti un altro. Quando incontrate i miscredenti, colpitali al collo, finché non li abbiate soggiogati. Girano con pantaloncini e costume. Queste cose mi fanno odiare di vivere in Europa. Con le vostre spade tagliate le teste agli infedeli, oppure sparate con i vostri proiettili. Con le vostre cinture esplosive fate saltare in aria i loro corpi. La morte per noi è un orgoglio. Dovete essere pronti a divenire martiri, orgogliosi di essere martiri. Non dimenticate le bombe esplosive che provocano maggiori disastri e atrocità. La miglior maniera per ricevere la benevolenza divina. Pazzi fanatici o figli di un'organizzazione più ampia, secondo te, Magdi? No, le parole che abbiamo sentito riecheggiano dei versetti del Corano. Versetto 12, 17 della Sura Ottava del Corano, in cui Allah stesso dice getterò il terrore nel cuore dei miscredenti, colpiteli tra capo e collo. Così come evocano le gesta di Maometto, che nel 627 personalmente partecipò allo sgozzamento e alla decapitazione di circa 900 ebrei a Medina. Non sono dei pazzi. Sono persone che più di altre ottemperano letteralmente, integralmente, a ciò che Allah prescrive nel Corano. Pensi che siano diffusi in Italia, la mettiamola un po' più semplicemente. Numericamente no, sono una minoranza, ma è sbagliato concepirli come mele marce che se tolte il contesto diventerà assolutamente sano. Senti di questa idea, Karima? Veramente sentire queste parole è molto forte. Per me e per tanti anche esperti di questo fenomeno, purtroppo, di criminali, sono delle mele marce. Ma parlare di questi versetti senza la contestualizzazione, di questi versetti, senza la storia, senza lo studio è fare lo stesso gioco di questi criminali. Se vogliamo combattere queste organizzazioni criminali facendo nascere un sentimento di islamofobia io credo che perdiamo già dall'inizio e quindi bisogna stare molto molto attenti e io uso le parole stesse di Papa Francesco Bergoglio che ha detto neanche molti mesi fa che non esiste una popolazione criminale, che non esiste un terrorismo religioso, non esiste un terrorismo cristiano, islamico e ebraico. Io vorrei soltanto dire che sono stato musulmano per 56 anni e so benissimo che come Karima ci sono tantissimi musulmani per bene con cui si può e si deve dialogare e convivere. Però aggiungo che i terroristi islamici sono quelli che più di altri ottemperano letteralmente, integralmente a ciò che Allah e Sirene Corano. Io vorrei parlare in questa puntata... Ma è sbagliata l'equazione guerra-terrorismo. Il terrorismo non è di natura reattiva, ma è di natura aggressiva e il terrorismo non c'è perché c'è una situazione di ingiustizia o di povertà. Non sono i burattini che promuovono il terrorismo, ma il terrorismo c'è solo se ci sono dei burattinai che sfruttano anche i burattini. Quindi, scusate, da quello che ha detto Crepe e le vostre opinioni, il terrorismo in Medio Oriente, nel mondo islamico, è nel DNA. Cioè, non c'entra nulla le guerre, i conflitti. Oggi abbiamo la Siria in quello stato, l'Iraq, le fake news che sono stati dati in pasto ai terroristi e non è colpa invece di qualche, diciamo, qualche iniziativa poco consona ai diritti umani o ai diritti umani. Questo dovrebbe essere negativo. Almeno che uno ha l'idea che la moschè e l'islam, per definizione, è qualcosa di negativo nella nostra società. Perché da quando in qua, anche in altri paesi, come per esempio anche il mio di provenienza, questo non è un problema. Anzi, la moschè può diventare uno strumento di educazione alla tolleranza, al dialogo interreligioso. Il problema è che oggi non si porta avanti questa strada, non si sceglie che cosa vogliamo fare dell'islam italiano, non si fa la differenza tra un islamismo salafita e quindi quello che proviene dall'Arabia Saudita che ha effettivamente dei valori inconcepibili con una società laica e quant'altro, e un islam invece che è un islam riformista. Fermati là. Tu mi ricordo benissimo che nelle moschè ci andavi e facevi questi pezzi sul Corriere della Sera che ti hanno creato molti... Però hai capito il discrimine, eh? Sì, sì. Perché lei dice stiamo attenti perché c'è islam e islam e poi che male c'è nell'organizzazione. Io sorrido perché la pensavo esattamente come la pensa Karima Ora. Chiariamo una cosa fondamentale. Ad oggi in Italia l'islam non è una religione riconosciuta dallo Stato e non lo è non perché lo Stato non voglia riconoscere l'islam, ma quando ci fu un approccio, era l'anno 2000, e si era ad un passo da riconoscimento, si scoprì che i musulmani erano divisi al loro interno sia nella composizione della delegazione che avrebbe dovuto stipulare l'intesa con lo Stato, ma soprattutto sui contenuti della piattaforma da proporre allo Stato. Vabbè, ma raccontami stiamo schede però. No, il punto fondamentale è questo, che il riconoscimento delle religioni in Italia avviene ottemperando all'articolo 8 della nostra Costituzione, che dice due cose. Sì, ma riconosce la Costituzione però... Se mi permetti, posso finire? La libertà di culto però riconosciuta dalla Costituzione. Tu hai parlato Karima, fammi finire di parlare. E l'articolo 8? L'articolo 8 della Costituzione dice che le religioni beneficiano di pari libertà di fronte alla legge a due condizioni. La prima è che abbiano stipulato un'intesa, l'islam non ha stipulato un'intesa. La seconda è che l'ordinamento giuridico della religione non sia in contrasto con le leggi dello Stato. E l'ordinamento giuridico dell'islam, che è la sharia, è totalmente in contrasto con le leggi dello Stato. Nell'estate del 2003, all'epoca era ancora al quotidiano la Repubblica, io da musulmano partecipai ad una preghiera collettiva nella grande moschea di Roma, che all'epoca era la più grande moschea d'Europa. Ed è l'unica moschea che in Italia ha beneficiato dello status di ente morale. Nel suo sermone, l'imam della grande moschea di Roma invocò l'aiuto di Allah per sterminare i nemici dell'islam. Io lo intervistai dopo questo sermone, il giorno dopo sulla prima pagina della Repubblica pubblicai la sua intervista, e il giorno successivo l'allora ministro dell'interno, Giuseppe Pisano, ordinò l'espulsione dall'Italia dell'imam della grande moschea di Roma. Quindi non è vero che se le moschee sono grandi e sono attenzionate, ciò che vi si predica è sostanzialmente diverso da quello che c'è nelle moschee cosiddette abusive, che poi in realtà lo sono quasi tutte, perché sono tutte associazioni culturali che anziché svolgere attività culturale, svolgono arbitrariamente attività culturale. Molto chiaro quello che ha detto. Questi sono fatti. Questi sono fatti. Ma il problema... Stiamo continuando a parlare di Islam.